Iscriviti al canale! Che regole ci sono? Semplicemente la differenza è che il mio Pokémon evolve tutti i turni. Tutti i fight. Le M.T. si possono essere quelle dei capi palestri, sì. Ma una è iniziata? Ecco delle nuove reclute. Daranno la tua squadra un tocco di magia in più. Ma l'unica questione di aver preso lui invece di quell'altro è che io il prossimo turno così non faccio HP. Il mio lavoro qui è terminato! Buona fortuna! Oh che figo! Wow, è bello giocare lui! Bello prendere lui subito con Galakrond! Tu il prossimo turno livelli! Hai fatto cose sorprendenti! È un casino livellare per me il prossimo turno! Noi livelliamo tanto vedo sempre! Perfetto! Perfetto! Ora puoi arrivare alleati più potenti! Il mio lavoro qui è terminato! Buona fortuna! Bello sempre un coin, no? Però... Il mese più vuettante! Scops! Non è condiviso! Tu lo so che vuoi cavartela! Allora... La questione è che forse ce la prendevi del teatro adesso! Non so neanche più condividere la diversa del mese! Siamo boomers, Scops! Io sono stato a Milano Games Week e sono... I peggio malanni! No, certe notti no! Liga 2 però perché... Che stile! Ma che stile! Io non riuscirei mai a convincere mia moglie o a chiamare mia figlia Liliana! Wow! No te! Grandissimo! Numero uno, Scops! Oh! Bellissimo Liliana! No, Liliana aveva cocaino qua! Non ce l'avevo fatto la prima volta! Eh vabbè, giusto giusto! No, Liliana ha bel nome, bel nome in generale. da teatro non è io mi chiamavo liliana un tempo interessante non sapevo potrei chiamare mio figlio gare noi il nostro comunque per farvi capire il livello di neandagine quando noi in famiglia avremmo il nostro primo cane e il nostro primo cane noi avevamo pochi anni comunque il nostro cane lo abbiamo chiamato senza alcun dubbio l'abbiamo chiamato ma nostro cane si è chiamato mox non poteva chiamarsi altrimenti se la faccio a farli morire tutti e quattro mox in generale in generale sei inarrestabile in realtà molto pari ce la farò però per faccia subisco 15 pizze bravo ok liliana no liliana è bellissimo no la chiami lili quando è giovane ma non abbatterti fighissimo ti farò un buon prezzo da 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 ma perché ho preso questi ma sono un coglione vabbè diciamo che l'abbiamo fatto apposta prendete un bel respiro prendete un bel respiro c'è l'idea diventa divine shield win fewer per forza non è che ci sono chance che non lo diventi il mio lavoro qui è terminato buona fortuna i trade buddy per l'amore del cielo profisce almeno quello di destra almeno uno cioè bravo non l'avevi accettato di perdere questo fight io non sono più lontano so che essere da tanto non sono più tornato so che essere da tanto ci sta ci sta scops ma anche io mi sono un po' allontanato nello stream su dice e non è male perfetto ora puoi reclutare alleati più potenti allora le passioni a me la feullo la table la feullo tutte le table il servitore resterà con te fino alla fine vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione guardate questo pezzo le fanno ma faceva il guapo ecco il suo cleave 14-17 con win fury no hai fatto 150 rette in mano hai fatto cose sorprendenti là fuori questo lo mettiamo sull'idea qua facciamo il rollino il balu hide questione se voglio get up come no c'è un gazz ma non voglio volvere balu hide ragazzi dove è shop questo perché deve volvere balu hide ragazzi difendono da te ok ho bisogno di te che faccia delle cose mostevose tanto non venire mai attaccata no no vabbè fai dietro buono buono lui buono win fury qua prende anche questo 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 è buono che pista è dove ho le mani che かな p 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 restrizioni di sicurezza disattivate attivazione in meccanismi di mietitura oh sei inarrestabile maio nn a bionاء con scuro di vino e 3 pro varietta in banco scuro di vino ma anche omegi basterà si raffaccia Cosa c'ha? Guarda che ho 150 clive Ma è onnesto tipo Tutto già scudato Sto un po' schifo, lui è decente Per te e io Sto pensando se prendo i geni Per me è che mi blocca la board Per niente di particolarmente buono Ma non è male prendere lui e lui E rigioco 6 pezzi però La questione è se prendere questo o questo Secondo me è meglio questo per giocare 7 pezzi Un tre bestie Anche perché la 5-5 la mangiavo Ma c'hanno tutti i baroni triple? Che cazzo è? Non ti basta vecchio mio Non ti basta, non ti basta Non ti basta Troppo forte Doppio cleave Divine shield wind fury E' proprio fortissimo Quella battaglia è andata alla grande E' nascita lui? Ovviamente Perfetto Questa c'è per giovann Adesso Un giorno dopo Schifo Schifo Questo non è male Do il quretto taunt Io voglio mettere il quretto taunt Su di lui Perché a un certo punto Gli darò modulo No, idea, no Idea Idea E lì Vedi cosa succede Quando ti vesti per l'occasione Grazie Forse è che è un amantire come voi neanche Signore, te ci stavo qui un troppo esotico, a teoppo Non è teoppo esotico, è teoppo Cioè, teoppo di tutto Hai fatto cose sorprendenti là fuori Eh, lui è quello di otto Ma X-Nary Bonnetto è nata, esatto Non credo di volere un altro di questi, via Modulo Per lui Un altro di questi Mantid Queen Dove metto? Ciao Bartolino, è molto bene, molto bene oggi Oggi sono in forma Oggi sono in forma In realtà stamattina a un certo punto ancora C'avevo meno, non ero grandi Non ero molto sul pezzo Ma poi ora sto da Dio In confronto Alle ultime settimane Sono molto felice Noi, non ero Non mi shotta, ma... ...perdo. Mi serve questo. Perché lui vince contro questo tipo qua. Lo prendo un baluaido. Guarda, P4, P4 ha 4 pezzi. Ti farò un buon prezzo. Non mangiare, per favore. Non lo prendo. Potevo buffare il baluaido, non l'ho voluto perché se non trovo la tripla... ...è completamente inutile perché tanto io dopo devo mettere lei. La in alto stai proprio bene. ... Madonna, guardate quanto sono forti il doppio cleaver. Marroni. E non sono così grossi, eh? Mie cleaver. Come ha fatto a vincere lui? Ma in ogni caso metterò tipo lui nel mezzo. Non lo so. Che è successo? Buh. ... Se non è più forte l'interrogata dice qua. Ma forse io qui lo metterei tipo seconda da lui. O terzo. Magari colpisco le idee. Intanto sono le idee nella chiave qua. Interessante sto spot. Eh ma io devo fare attaccare Lilia quindi secondo me non è buono. ... Io farei così. ... 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 di prima ovviamente malissimo ma non ha neanche dato un po come è possibile dato scudo quello lì madonna ma che schifo è per lui vediamo vediamo quanti li riescono dall'identio ma dai winnalo e dove andava messo andava messo in forno open 1 a sapere lo sapevo che aveva quell'idea grossa non era messa addirittura quarta io non pensavo andasse qua e potesse andare quarta l'idea sua quindi secondo me la mia giocata è stata figa grazie a tutti Grazie a tutti.